Ecco le anticipazioni per la prossima settimana di Endless Love, dal lunedì 3 giugno al domenica 9 giugno 2024, con tutti i numeri scritti in lettere. Lunedì 3 giugno 2024 Emir non si fida più di Tufan e decide di affidare a Tariq il compito di sorvegliare Kemal. Questa decisione viene presa dopo che Emir ha osservato attentamente il comportamento di Tufan, trovando in lui segnali di inaffidabilità e dubbi che non poteva più ignorare. Emir si rende conto che Tariq, con la sua fedeltà e dedizione, sarebbe stata la scelta più sicura per tenere sotto controllo Kemal e garantire che tutto andasse secondo i suoi piani. Kemal, sempre vigile e consapevole dei pericoli che lo circondano, intuisce presto che qualcosa non va. Sente sulla pelle la presenza di occhi vigili che lo seguono e sospetta che suo fratello Tariq sia stato coinvolto. Impreda all'ansia che Kemal cerca in tutti i modi di avvisare Tariq del pericolo imminente, cercando di farlo ragionare e di convincerlo a prendere una posizione diversa. Tuttavia, Tariq, accecato dalla lealtà verso Emir e forse influenzato da promesse o minacce che non conosciamo, rifiuta categoricamente di ascoltare il fratello. Tariq si ostina nel suo ruolo, ritenendo che ciò che sta facendo sia giusto e necessario, e questo aumenta il divario tra i due fratelli. Nel frattempo, Zainab, con la sua astuzia e determinazione, decide di affrontare direttamente Emir. Sa di avere un'arma potente nelle sue mani, le foto compromettenti che potrebbero rovinare la reputazione di Emir. Con coraggio e una punta di sfida, Zainab minaccia Emir, dicendogli che se avesse osato usare quelle foto contro di lei, non avrebbe esitato a rivelare tutto a Nihan. Sa bene quanto Emir tenga alla sua immagine, e quanto potrebbe perdere se queste informazioni diventassero pubbliche. Emir, sorpreso e furioso di fronte a tale audacia, non riesce a contenere la sua rabbia. Con gli occhi pieni di rabbia, risponde a Zainab con minacce di ritorsioni ancora più severe. Promette di farle pagare caro ogni passo falso, rendendo chiaro che non tollererà alcun tentativo di sfidare la sua autorità. Le sue parole sono cariche di veleno, e la tensione tra i due raggiunge livelli insostenibili. La situazione diventa sempre più complessa, con ogni personaggio che cerca di navigare attraverso un labirinto di intrighi, minacce e alleanze fragili. La fiducia è ormai un concetto relativo, e ognuno deve guardarsi le spalle. Emir, determinato a mantenere il controllo, continua a tessere la sua rete di manipolazioni, mentre Kemal lotta per proteggere se stesso e i suoi cari. Zainab, consapevole dei pericoli, non si lascia intimidire facilmente, ma sa che deve muoversi con cautela per non cadere nelle trappole di Emir. Il futuro è incerto e pieno di insidie, e ogni passo potrebbe portare a conseguenze imprevedibili. Martedì 4 giugno 2024 Kemal e Nihan litigano ancora una volta, ma il loro battibecco viene interrotto da una telefonata di Asu, che chiede a Kemal di raggiungerla immediatamente. Aki, presente a casa di Asu, chiede a Kemal di sposare la nipote come suo ultimo desiderio. Kemal, pur volendo accontentarlo, rifiuta perché ama un'altra donna. Mercoledì 5 giugno 2024 Emir scopre che Nihan è scomparsa. Dopo aver informato la famiglia, riceve una telefonata da Tanner, che ammette di aver rapito Nihan e chiede l'aiuto di Emir per uscire di prigione in cambio della sua liberazione. Kemal, ascoltando i messaggi in segreteria, scopre che Nihan è stata rapita e chiede aiuto a Zeir per rintracciarla. Giovedì 6 giugno 2024 Nel messaggio lasciato da Nihan a Kemal, vengono condivisi dettagli cruciali che permettono a Kemal di risalire all'identità di uno dei rapitori, un uomo di Cori Skender. Kemal chiede aiuto a Nekmi per scoprire dove si trova Nihan. Intanto, Onder si reca a casa di Kemal e incontra Leila, ringraziandola per il supporto. Venerdì 7 giugno 2024 Nihan, tenuta prigioniera in un magazzino abbandonato, cerca di lasciare ulteriori indizi per Kemal. Emir e Kemal, entrambi alla ricerca di Nihan, utilizzano le loro risorse per cercare di localizzarla prima che sia troppo tardi. Kemal si fa aiutare da Nekmi, mentre Emir sfrutta la tecnologia per rintracciare la moglie. Sabato 8 giugno 2024 Emir e Kemal continuano la loro corsa contro il tempo per salvare Nihan. Kemal riesce a ottenere un indizio cruciale da Nekmi e si dirige verso il luogo dove Nihan potrebbe essere nascosta. Emir, intanto, cerca di mantenere il controllo della situazione, ma la tensione cresce. Domenica 9 giugno 2024 Nihan viene finalmente ritrovata da Kemal dopo una lunga e angosciante ricerca. La sua prigionia è stata un'esperienza traumatica, che l'ha segnata profondamente sia fisicamente che emotivamente. Nihan appare pallida e visibilmente scossa, con gli occhi pieni di paura e dolore. Il suo corpo porta i segni della detenzione, con lividi e graffi, e il suo spirito è spezzato dall'orrore di essere stata imprigionata per così tanto tempo. Kemal, vedendola in quelle condizioni, prova una miscela di sollievo e rabbia. È felice di averla ritrovata, ma è anche furioso per ciò che ha dovuto subire. La abbraccia con delicatezza, promettendole che non permetterà mai più che qualcosa di simile accada. La sua determinazione a proteggerla si rafforza ulteriormente. Nel frattempo, Emir, il principale responsabile delle sofferenze di Nihan, non tarda a confrontarsi con Kemal. Il confronto tra i due uomini è carico di tensione e ostilità. Emir cerca di giustificare le sue azioni, affermando che tutto ciò che ha fatto è stato per amore di Nihan e per proteggerla da un destino peggiore. Tuttavia, le sue parole suonano vuote e prive di sincerità. Kemal, con il cuore colmo di rabbia e disprezzo, non è disposto a credere alle sue giustificazioni. Gli occhi di Kemal brillano di odio mentre ascolta le scuse di Emir, sentendo che nessuna parola può mai giustificare il dolore inflitto a Nihan. Quando Nihan torna finalmente a casa, la sua mente è affollata di ricordi dolorosi e di domande senza risposta. Si sente tradita e vulnerabile, ma sa che deve affrontare Emir per ottenere giustizia. Con coraggio, lo affronta direttamente, accusandolo apertamente dell'omicidio di Karen. La sua voce, anche se tremante, è decisa e piena di determinazione. Emir, messo alle strette, cerca di difendersi, ma le sue bugie non riescono a nascondere la verità. Nihan è determinata a far emergere tutte le menzogne e i crimini di Emir. Kemal, consapevole dei pericoli che Nihan ancora corre, decide di non lasciarla mai sola. La sua presenza costante e il suo sostegno diventano un'ancora di salvezza per Nihan, che cerca di ricostruire la sua vita dopo il trauma subito. Kemal la protegge non solo fisicamente, ma anche emotivamente, aiutandola a superare le paure e a ritrovare la forza per andare avanti. La loro relazione si rafforza ulteriormente, mentre insieme affrontano le sfide che li attendono. Nihan trova conforto nel sapere che può contare su Kemal, e lui, a sua volta, si sente motivato a combattere per la giustizia e per l'amore che prova per lei. La strada verso la guarigione è lunga e tortuosa, ma insieme Nihan e Kemal sono determinati a superare ogni ostacolo e a costruire un futuro libero dalle ombre del passato. In questo difficile percorso, entrambi devono affrontare non solo le minacce esterne, ma anche i loro demoni interiori. Nihan deve fare i conti con i ricordi della prigionia e con il trauma subito, mentre Kemal deve imparare a gestire la sua rabbia e il desiderio di vendetta. La loro forza risiede nell'amore che li unisce e nella fiducia reciproca che li sostiene. Ogni giorno è una nuova battaglia, ma Nihan e Kemal sanno che insieme possono affrontare qualsiasi cosa. La loro storia è una testimonianza del potere dell'amore e della resilienza e della capacità di trovare speranza anche nei momenti più bui. Ogni mattina, Nihan e Kemal si svegliano con la consapevolezza che il mondo intorno a loro è pieno di sfide e ostacoli. Tuttavia, ciò che li distingue è la loro determinazione a non arrendersi mai. Hanno imparato che l'amore vero non è solo una questione di passione e romanticismo, ma anche di forza e perseveranza. Ogni difficoltà che incontrano li rende più forti, più uniti e più determinati a costruire un futuro insieme. Le loro giornate sono fatte di piccoli gesti di supporto reciproco, di parole di incoraggiamento e di sguardi pieni di comprensione. Anche quando le cose sembrano insormontabili, trovano sempre un modo per sorridere e per ricordarsi che, finché sono insieme, nulla è impossibile. Le notti sono spesso lunghe e piene di preoccupazioni, ma il conforto che trovano l'uno nell'altro rende tutto più sopportabile. La loro storia è anche un esempio di come l'amore possa superare le barriere imposte dalle circostanze esterne. Hanno affrontato l'opposizione di famiglie, amici e nemici, ma non hanno mai lasciato che questi ostacoli li dividessero. Invece, hanno usato ogni sfida come un'opportunità per rafforzare il loro legame e per dimostrare al mondo che il loro amore è più forte di qualsiasi avversità. Kemal, con la sua dedizione e il suo coraggio, è un faro di speranza per Niyan. Lei, con la sua dolcezza e la sua determinazione, è la forza che lo sostiene nei momenti di debolezza. Insieme, formano una squadra invincibile, capace di affrontare le tempeste della vita con una calma e una sicurezza che solo il vero amore può dare. Inoltre, la loro storia dimostra che la resilienza non è solo una qualità individuale, ma anche una caratteristica che può essere coltivata in una relazione. Hanno imparato a comunicare apertamente, a sostenersi a vicenda nei momenti di bisogno e a celebrare insieme i successi, grandi e piccoli. Questa resilienza condivisa è ciò che li ha portati a superare le difficoltà più grandi e a trovare speranza anche quando tutto sembrava perduto. Niyan e Kemal rappresentano l'essenza dell'amore vero, un amore che non conosce limiti, che non si arrende di fronte alle difficoltà e che trova sempre un motivo per andare avanti. La loro storia è una fonte di ispirazione per chiunque creda nel potere dell'amore e nella capacità umana di resistere e prosperare anche nei momenti più difficili. Ogni giorno, con ogni nuova sfida, dimostrano che l'amore può davvero vincere su tutto. Queste anticipazioni promettono una settimana piena di emozioni e colpi di scena, con sviluppi cruciali nelle vicende dei protagonisti di Endless Love. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Endless Love.